Siamo con Fabio Putera, ospite del terzo giorno di Open Air Art, un artista a 360 gradi, un lamettino che ha saputo imporsi a lavorare in tutto il mondo, possiamo dire, un famosissimo creatore di opere d'arte, di maschere, di marionette e di tanto altro. Le tue maschere è una cosa particolarmente affascinante e bella. Da dove nasce il tuo amore per la maschera? Che domanda difficile, è qualcosa che è venuta così, non lo so, mi ci sono ritrovato dentro. Forse perché io ho iniziato la mia attività artistica come scultore, poi sono stato coinvolto dentro il teatro e quindi probabilmente la maschera è stata la cosa che automaticamente riunisce questi due aspetti. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!